I carabinieri della compagnia di Trapani hanno arrestato per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente un pregiudicato trapanese. Durante un mirato servizio per il contrasto dello spaccio di droga nel capoluogo, i militari dell'arma hanno eseguito una perquisizione domiciliare a casa dell'uomo con precedenti specifici, i cui comportamenti sospetti avevano attirato l'attenzione degli investigatori. Durante l'accurata perquisizione sono stati rinvenuti circa 14 grammi di sostanza stupefacente del tipo crack e cocaina, un bilancino di precisione, diversi appunti riconducibili all'attività di spaccio, un impianto di videosorveglianza e la somma in contante di circa 5.500 euro. Il 28enne è stato tratto in arresto e a seguito dell'udienza di convalida sottoposto alla custodia cautelare in carcere.